Cessione a Ciprato il 3 agosto lato dal notaio, stadio disponibile solo se ci sarà la firma e resta l'inconita ripescaggio. Intervista esclusiva all'italo-canadese Joseph Romano, pronta a rilevare il prato ma soltanto in serie C. Collegamenti di treni e merci da gonfianti alla Cina, il progetto di Only Italy e Interporto. Multe in poste comunali arretrate, ultimi giorni per la rottamazione, il termine scade il 31 luglio. Creazione urbana e diario di una città, da stasera torna il format di TV Prato. Una buona serata dalla nostra redazione, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Nuovo colpo di scena nella vicenda della cessione dell'ACI Prato. Il 3 agosto Joseph Romano sarà infatti a Prato per stipulare l'atto con cui rileverà il 100% delle quote societarie. Intanto il sindaco Matteo Biffoni rimette a disposizione lo stadio Lungo Bisenzio per permettere il ripescaggio. A patto però che la cessione vada a buon fine. Sentiamo. La cessione dell'ACI Prato all'italo canadese Joseph Romano dovrebbe avvenire il 3 agosto a meno di ulteriori colpi di scena che in questa vicenda non sono mancati e questo l'ultimo aggiornamento arrivato in serata. La data è stata comunicata alla comune di Prato e di conseguenza l'amministrazione ha inoltrato alla Lega una disdetta della revoca di gestione dello stadio Lungo Bisenzio vincolata però all'effettiva stipula del contratto di cessione. Questo passaggio dovrebbe consentire a Toccafondi di presentare la domanda di ripescaggio in serie C entro le ore 13 di domani sempre che la Lega Pro accetti la richiesta vincolata. Stamani il presidente del Prato aveva consegnato in comune una procura notarile e irrevocabile a vendere attraverso il delegato avvocato Andrea Guarducci in rappresentanza di Toccafondi al sindaco di Prato Matteo Biffoni. Nella procura il presidente del Prato conferma la volontà di cedere il 100% delle quote dell'AC Prato entro il 10 agosto a un soggetto di gradimento del sindaco. In un primo momento il primo cittadino non aveva ritenuto sufficiente la documentazione fornita da Toccafondi chiedendo appunto certezze sulla data in cui compratore e venditore si sarebbero visti dal notaio per firmare, data che è poi stata comunicata poche ore dopo. E intanto in un'intervista telefonica rilasciata in esclusiva a TV Prato, Joseph Romano rassicura la città e conferma che la prossima settimana sarà a Prato per firmare davanti al notaio l'atto con cui acquisterà la società laniera. Ascoltiamo. Joseph Romano buonasera, le chiedo se è sempre interessato a proseguire la trattativa per l'acquisto del 100% dell'AC Prato. Buonasera, sì. C'è interesse. Quando pensa che possa essere formalizzata l'offerta e la trattativa possa sfociare nel raggiungimento dell'intesa? Arrivo in Italia il prossimo venerdì per concludere tutto. Però lei vuole il Prato solo in Serie C? Sì, domani è il giorno che è più importante. Ha parlato con il sindaco Biffoni per chiarire la situazione? Sì, ho parlato 15 minuti fa. Il sindaco ha detto tutto a posto con lo stadio. Speriamo di buona notizia domani. Quindi lei arriva la prossima settimana per diventare il nuovo presidente del Prato? Certo, sì. Quali sono, Romano, gli obiettivi che ha? Voglio creare una squadra molto forte con la fondazione More Professional e tanti lavori forti per creare un'atmosfera del club. Io lavoro per loro, lavoro per la squadra, per la diretta, per rinuovere un'ora e voglio nella città, nella squadra e per i tifosi. Sono lì per i tifosi. Lei rileverà il 100% delle quote nella Cipra? Sì. Completamente. È già d'accordo con Toccafondi? Sì. Quindi a questo punto l'importante è che domani il Prato venga iscritto al campionato di Serie C attraverso il riprescaggio. Non lo so se il riprescaggio è stato fatto, ma io voglio la squadra di Serie C. Se no, non le interessa? No. Ok. Molto chiaro. Giodefer Romano, l'aspettiamo a Prato la prossima settimana. Possiamo chiederle di dire Forza Prato? Eh, certo. Sempre Forza Prato. E dopo la presa di posizione del primo cittadino che ieri aveva ribadito la revoca della gestione del lungo Bisenzio per la Cipra, se non si dovesse concretizzare il passaggio di consegne da Toccafondi a Romano, il direttivo Curva Ferrovia Matteo 27 ha preso posizione avvallando la scelta di Matteo Biffoni. Noi abbiamo ascoltato anche il parere di alcuni nostri concittadini con commenti raccolti prima che il Comune revocasse la disdetta dello stadio, vincolata, lo ricordiamo, all'effettiva cessione della Ciprato. Ascoltiamoli quindi. Da che parte sta? Quella di Toccafondi o del Sindaco? No, che bisogna stare dalla parte del Sindaco, perché per ora in effetti mi sembra che le parti non abbia inconcluso granché di tutto questo, che sembrava l'osa risolta da un minuto a un altro, invece qui io non voglio da colpa né a Toccafondi né a nessuno, però mi sembra che ci sia delle ose non chiare. E bisogna stare per forza dalla parte del Sindaco, perché il Sindaco deve prendere una decisione ben precisa e per conto mio fa bene ammettere anche il discorso dello stadio in chiaro, perché sono cose da veramente che devono arrivare in fondo. Fa bene il Sindaco a Toccafondi a questi punti o lascia il 100%, altrimenti lo stadio non ce l'ha. E' un'altra parte, perché se effettivamente è arrivato il milione di bonifico sul conto corrente c'è qualcosa di concreto, se poi non c'è, allora il Sindaco la gestisce come meglio crede. Lo stadio di Prato è del comune, quindi lui è la prima persona che può decidere quello che c'è da fare, però io penso che si debba avere le carte in mano per sapere e per dare un giudizio di questa cosa. Ma guarda, dopo quattro anni ho dato ragione a questo Sindaco, ne parlavo giusto appunto un minuto fa, credo che sia stata l'unica soluzione, anche perché ora, come si suol dire, le pentole, i coperchi sono stati appunto tolti dalle pentole, per cui il Sindaco ha fatto ciò che gli è stato richiesto, perché chiaramente non si può togliere una proprietà privata. Il Prato era una proprietà privata, era degli azionisti, l'azionista di maggioranza da Toccafondi. Quando Toccafondi è andato dal Sindaco e gli ha detto rimetta, il Sindaco si è mosso. Credo che avesse trovato anche più o meno cordate, ora di preciso non lo so, però si parla di diverse persone interessate. Il fatto è che il Prato era comunque appetibile e questo sconfessa 40 anni di dichiarazioni, secondo me, non verifiere. Sinceramente non ho seguito la vicenda proprio nello specifico, quindi il Presidente avrà ragione da una parte e i tifosi, perché proprio sono tifosi, avranno le sue ragioni di protestare in questo senso. Anche se oggi diciamo che rilevare e comunque mantenere una squadra di calcio in Lega Pro, Serie C, non è assolutamente facile. È meglio ripartire da un'ategoria inferiore e ripartire con delle basi solide che rischiare poi di ritrovarsi tutti gli anni in un'ategoria e poi si fa una figura sempre in fondo alla Sivia e retrocedere come si è fatta negli ultimi tempi. In una città come Prato bisogna avere una squadra di calcio dignitosa, perché se lo merita è sempre stata a livelli alti livelli, non avere una squadra di calcio oggi come oggi è la base. Le persone sono tutte attaccate a questo calcio, avanti il calcio, ferma anche la città. Non mi so di l'altro ragazzi, questo mi dispiace. E voltiamo a pagina dopo la partenza dei primi treni da e per la Spezia all'Interporto di Gonfienti. Guarda adesso a collegamenti merci con la Cina, ce ne parla Marco Manzo. Un treno pieno di merci da Prato alla Cina. È il progetto illustrato stamani nella sede dell'Interporto della Toscana Centrale agli operatori che fanno capo all'infrastruttura della Piana dei Gonfienti da Irene Pevetti, presidente di Onlitalia, piattaforma di servizi logistici a cui afferiscono circa 2000 piccole e medie imprese. Onlitalia, che detiene l'esclusiva per il trasporto ferroviario dall'Italia all'Hub di Cengu nel sud ovest della Cina, capologo della provincia del Sichuan, farà partire da Melso il primo convoglio composto da circa 40 contenere il nuovo 10 agosto, eventualità che potrebbe essere replicata anche da Prato in virtù della collaborazione che si è stabilita con l'Interporto della Toscana Centrale. Per noi è un'opportunità importante, ha dichiarato il presidente dell'Interporto Ivano Menchetti, il riconoscimento che il nostro sistema è strategico e può funzionare. L'Interporto detiene una struttura preziosa per Onlitalia, i binari che lo collegano direttamente alla rete nazionale e che di conseguenza possono metterlo in relazione con il terminale di Melso, da cui partirà ad agosto l'Espresso Merci per la Cina. Noi abbiamo clienti opportunità, voi l'infrastruttura, ha affermato l'ex presidente della Camera dei Deputati nella presentazione del progetto. Il rapporto di collaborazione con l'Interporto della Toscana Centrale si basa su una sorta di scambio. L'organizzazione del treno è di Onlitalia, l'Interporto è il compito di supporto tecnico. Un mese per andare e tornare, questo è il tempo di trasporto stimato per il primo treno Onlitalia, seguito dopo una settimana da un secondo per una frequenza dichiarata a regime dalla società con sede a Milano di minimo due treni a settimana. Un programma, l'organizzazione periodica di treni carichi di merci per la Cina, che Onlitalia vorrebbe ripetere su Prato, con convogli in partenza dall'Interporto. Intanto sta lavorando a far partire il primo dai binari di gonfienti, da dove è stata inaugurata nei giorni scorsi la linea settimanale verso il porto di La Spezia. Il centro Pecci mente in guardia da una fantomatica iniziativa che dovrebbe tenersi all'anfiteatro del museo promossa da ignoti che chiedono dei contributi economici. I fantomatici organizzatori si aggirano nei dintorni del Pecci chiedendo quindi fondi ad aziende, esercizi commerciali e privati per l'organizzazione di una manifestazione sport senza barriere, dichiarando che si terrà all'anfiteatro del Pecci il 4 agosto. Il centro Pecci non ha in calendario questa iniziativa né il 4 agosto né in altra data e non ha mai promosso una raccolta fondi a sostegno dell'iniziativa, ha fatto sapere la direzione del museo in una nota. E parliamo adesso di multe e imposte comunali arretrate. La rottamazione scade infatti il 31 di luglio. Entro questo termine si evitano sanzioni ed interessi. Ancora pochi giorni a disposizione per la rottamazione dei debiti arretrati con il Comune di Prato. Il termine scade il 31 luglio e riguarda vecchie multe stradali, violazioni su ICI, mutari e imposte su pubblicità e suolo pubblico notificate entro il 16 ottobre 2017. Così facendo si evita di pagare gli interessi e nel caso delle imposte comunali non si incorre in sanzioni. Sono circa 35 mila i contribuenti potenzialmente interessati alla possibilità di rottamare i propri debiti. Agli inviti spediti all'inizio di quest'anno da Sori in collaborazione con il CED del Comune ha fatto seguito una campagna informativa per cercare di raggiungere cittadini potenzialmente interessati. Ad oggi si contano circa 7 milioni di euro recuperati con la rottamazione attraverso la messa in regola di circa 5 mila cartelle. La rottamazione è attiva a Prato dal gennaio del 2017. In questi ultimi mesi una ulteriore facilitazione è arrivata dallo sportello online sul sito di Sori che offre un servizio per verificare la propria posizione debitoria, individuare gli atti ammissibili alla rottamazione e le agevolazioni previste e soprattutto eseguire la rottamazione online. In alternativa è possibile anche presentare la dichiarazione alla Sori o via PEC e scegliere se pagare in un'unica soluzione oppure a rate mensili. In questo caso il termine ultimo per saldare è il 30 settembre. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito con procedure online, bollettini stampabili direttamente dal portale, ti serve, bonifico bancario o direttamente presso lo sportello Sori in piazza San Francesco. Il Vescovo Franco Agostinelli ha ricevuto stamani la visita di un gruppo di bambini del Sarawi ospitati dal Santarita. Vediamo com'è andata. 15 bambini del Sarawi hanno fatto tappa oggi a Prato, ospiti della fondazione Opera Santarita. I piccoli provenienti dai campi rifugiati in Algeria sono arrivati in Toscana ai primi di luglio e vi resteranno fino alla fine di agosto nell'ambito di un progetto del coordinamento toscano per il sostegno alla Repubblica del Sarawi che coinvolge in tutto 250 bambini e che va avanti da ben 35 anni. La Repubblica del Sarawi è stata proclamata nel 1976 ma ad oggi non è ancora riconosciuta da circa la metà degli stati del mondo. Questa mattina bambini sono stati accolti dal Vescovo Monsignor Franco Agostinelli che si è intrattenuto con loro. Questa è una nazione dimenticata perché fa parte un po' di una contrattazione fra le grandi potenze, intendo dire le potenze che sono nell'Occidente perché poi si servono degli emissari del posto e questi quindi si trovano nel mezzo, sono figli di nessuno praticamente. Loro vorrebbero avere una casa, vorrebbero essere aiutati a casa loro perché veramente è una nazione che ha un forte senso di appartenenza. Noi dobbiamo fare un po' di esame di coscienza e quando dico noi intendo dire tutto l'Occidente perché non si può strumentalizzare la gente ai nostri interessi. Forse l'Occidente lo sta facendo. Però noi abbiamo voluto accoglierli perché questi bambini sono come degli ambasciatori della loro terra. I bambini hanno poi pranzato presso la struttura del Santa Rita in Via Diaz poi nel pomeriggio. Sono stati i protagonisti di un momento di attività e di gioco al centro Meucci, una delle strutture diurne del settore sociale della Fondazione Opera Santa Rita. Vengano qui da noi prima di tutto per fare tutta una serie di visite mediche che gli consentiranno poi di avere anche in qualche modo un riferimento per il loro sviluppo successivo dal punto di vista della salute. E poi richiama un po' l'attenzione di tutti noi la realtà di questo popolo che non chiede altro attraverso un atteggiamento pacifico e quindi attraverso strumenti legittimi il riconoscimento di uno Stato che peraltro anche l'ONU avrebbe in qualche modo sancito. In un momento fra l'altro anche particolare dove giustamente spesso si dice aiutiamoli a casa loro, questo è proprio quello che loro chiedono, nel senso vogliono una patria, un territorio dove vivere pacificamente a casa loro. Lotta alla violenza contro le donne e i minori. La Regione Toscana ha stretto un accordo con le procure, tra cui anche quella di Prato, nell'ambito del progetto Codice Rosa. Vediamo. La Regione ha siglato un'intesa con le procure di Firenze e degli altri catturati toscani per garantire in modo uniforme in tutto il territorio il miglior supporto possibile alle vittime di violenze e abusi che accedono al conto soccorso degli ospedali in Codice Rosa, con particolare riferimento alle donne e ai bambini. Il Codice Rosa è un percorso socio-sanitario nato nel 2010 proprio in Toscana. Noi siamo sicuramente su questo una regione all'avanguardia, siamo quelli che hanno pensato il Codice Rosa che è diventato una rete che mette insieme l'aspetto sanitario e l'aspetto sociale, egregiamente coordinato dalla dottoressa Vittoria Doretti e su questo fronte vogliamo continuare per dare il massimo della tutela alla vittima, sia sotto il profilo sanitario e sociale ma anche sotto il profilo giudiziario. Soprattutto quelle vittime che non a caso la legge definisce come vittime vulnerabili, vittime di reato che si trovano in condizioni e in situazioni di particolare debolezza e delicatezza sappiano che vi è la possibilità di un supporto forte, concreto, efficace da parte della struttura in tutti i diversi passaggi fino all'emersione da una parte per ciò che riguarda gli uffici di procura della notizia del reato, per ciò che riguarda la struttura sanitaria e la regione la predisposizione di tutto il sostegno possibile per la vittima. Da 2012 al 2017 hanno soffruito del Codice Rosa 17.300 persone, nei primi tre mesi del 2018 646. La scuola è boom di 100 al liceo Copernico dove 32 studenti hanno ottenuto il massimo dei voti agli esami di maturità, 8 di loro hanno ricevuto anche la lode. Nell'ultimo esame di Stato al liceo Copernico si è registrato un numero di studenti diplomatici col massimo dei voti nettamente superiore ai dati nazionali sulla maturità 2018 resi noti in questi giorni dal Ministero dell'Istruzione. Nelle 11 classi quinte del Copernico, 240 alunni in tutto, ci sono stati 800 in lode, pari al 3,3% dei diplomandi contro l'1,3% della media nazionale e 3,2% pari al 13,3% contro il 5,7% del dato nazionale. Il Copernico ha confermato gli 800 in lode dell'anno scolastico scorso e ha ottenuto risultati lusinghieri anche nella fascia dei voti superiore al 90, una quota raggiunta da 46 studenti pari al 19,1%, percentuale anche questa ben al di sopra del 9% nazionale. L'esito dell'esame di Stato è stato positivo sia nell'indirizzo linguistico con 10 cento di cui due con l'ode su 88 studenti sia nell'indirizzo scientifico dove ci sono stati 20 200 sede quali con l'ode. Addirittura nella quinta L del linguistico si sono riscontrati 600 due dei quali impreziositi dalla l'ode. Secondo la piattaforma e buscopio della Fondazione Agnelli, il liceo Copernico di Prato è risultato al primo posto tra i licei scientifici nell'area di 30 chilometri che va da Firenze a Pistoia per il percorso intrapreso all'università dagli studenti che si sono diplomati al liceo pratese. Duplice accordo tra Regione, Union Camere e Toscana per la realizzazione di interventi in tema di imprese 4.0 e promozione turistica. Scopriamone di più. Lo sviluppo dell'economia e la ripresa dell'occupazione in Toscana sono gli obiettivi di due distinti protocolli firmati dalla Regione e da Union Camere in rappresentanza del sistema camerale toscano, in continuità con un altro accordo già sottoscritto per il rafforzamento del sistema e della formazione e dell'accesso al mondo del lavoro. Una delle due nuove intese punta a favorire interventi in materia di impresa digitale e Industria 4.0. L'altra è invece incentrata sul sistema del turismo. Noi offriamo alle imprese un servizio strutturato, possiamo abbranerci della rete territoriale, delle camere di commercio nei vari copologhi, province, nei vari territori della Regione e possiamo non disperdere energie che sono generate dal sistema camerale e se non inquadrate e finalizzate in specifici ambiti di indagini e attività rischierebbero di essere meno efficaci di quello che così in maniera sinergica riusciamo a costruire. Quindi crescere in digitale è sicuramente fondamentale per conoscere meglio anche i mercati. Lo facciamo rivolgendosi alle piccole imprese come il sistema camerale per poi dare un taglio diverso insieme alla Regione Toscana per chi ha esigenze naturalmente diverse. Le camere di commercio hanno aperto i PID, oltre 80 PID in tutto il territorio nazionale che anche le camere di commercio toscane lo hanno fatte. Per i comparti del turismo e delle imprese 4.0 le camere di commercio mettono a disposizione delle imprese 2 milioni di euro. Torna da stasera su TV Prato il format Creazioni Urbane di Ario di una città, associazioni cittadini e commercianti insieme per rivitalizzare luoghi e spazi del territorio. Vediamo. Accoglienza, aggregazione, animazione, inclusione, integrazione e socializzazione. Sono queste le parole chiave e il filo conduttore di Creazioni Urbane di Ario di una città, il format di TV Prato prodotto in collaborazione con il Comune che vuole raccontare l'esperienza dei progetti di riqualificazione e rivitalizzazione pensati e promossi da associazioni, cittadini e operatori del territorio e finanziati dal Comune di Prato. Un viaggio alla scoperta della città, dal centro storico alle periferie, dai luoghi più nascosti e quelli più conosciuti che debutta stasera alle 21.10. 15 progetti, 15 modi diversi per raccontare Prato, 3 progetti per ogni appuntamento con 5 puntate di 30 minuti ciascuna che parlano di integrazione, accoglienza, inclusione, riappropriazione del territorio e buone pratiche. A condurre gli spettatori in ogni tappa di questo tour sarà la giornalista di TV Prato Arianna di Rupa. Creazioni urbane è un progetto del Comune di Prato pensato per rianimare e rivitalizzare alcuni quartieri della città attraverso iniziative che coinvolgano i cittadini per creare opportunità di relazione tra le persone e azioni di presidio attivo in luoghi considerati complessi. La prima puntata di Creazioni urbane e di aree di una città sarà dedicata all'arte di strada nelle periferie di Prato con il progetto extra centro a cura di FactoryTAC. Manca i libri all'aperto nei giardini del soccorso, il progetto è una finestra sul quartiere a cura di Riciclidea e una rete di associazioni che operano al soccorso. E ancora il ritorno del cinema al Macrolotto Zero con il progetto Piccolo Cinema China Town a cura dell'associazione China. Il viaggio proseguirà giovedì 2 agosto a San Paolo, Calciano e Santa Lucia per raccontare tre progetti nati dalle associazioni protagoniste nei quartieri della città. Tra settembre e ottobre andranno in onda le successive tre puntate. Gli ambulanti chiedono al Comune dei chiarimenti sugli spostamenti dei banchi per permettere lo svolgimento della palla grossa a settembre in piazza del Mercato Nuovo. Ascoltiamo. L'organizzazione della palla grossa in piazza del Mercato Nuovo fa ancora discutere. A tornare alla carica è AMVA, l'Associazione Nazionale Venditori Ambulanti. Ad oggi non abbiamo una planimetria definita, tanto meno i tempi per la scelta dei posteggi per tutti quegli operatori che saranno interessati dallo spostamento, ha detto il presidente dell'AMVA di Prato, Paolo Marchese. Gli ambulanti ci chiedono notizie dettagliate e noi al momento possiamo fornire solo informazioni generiche, ha aggiunto Marchese. Secondo il presidente di AMVA, gli ambulanti hanno avuto dall'amministrazione solo una bozza di planimetria risalente al mese di gennaio, che poi non è stata indicata come definitiva. Le semifinali della palla grossa sono in programma domenica 9 settembre, mentre la finale si svolgerà sabato 15. Ad un mese e mezzo dall'evento, AMVA chiede quindi maggiori delucidazioni. Constatiamo ancora una volta che le priorità sono altre rispetto a chi ogni lunedì va al lavoro, cercando di guadagnarsi la giornata offrendo anche un servizio alla città alla menta marchese, che auspica una comunicazione da parte del comune che chiarisca se la planimetria presentata qualche mese fa è confermata e che dia indicazioni sulla tempistica per la scelta degli stalli provvisori. Diletta Bitorzoli, volto noto delle trasmissioni di TV Prato, il gioco è fatto e Prato Sport torna in pista al concorso Miss Italia ed è subito vincente. Diletta si è fermata in una delle tappe regionali del concorso vincendo la fascia di Miss Castelfiorentino, una vittoria che spanca la diletta alla strada verso la finale regionale. La bella subretta pratese nella chermessa di Castelfiorentino ha infatti superato la concorrenza di ben 23 ragazze chiudendo al primo posto. Le antiche villeggiature sono protagoniste degli eventi dell'estate in Val di Bisenzio. Vediamo. Vacanze e vacanzieri della fine dell'Ottocento, dei primi decenni del secolo scorso, raccontati per la prima volta in una pubblicazione stracolma di curiosità, luoghi, personaggi e foto d'epoca. La Fondazione Centro di Documentazione Storico Etnografica, con il sostegno della regione toscana e la collaborazione dei comuni della Val di Bisenzio, ha condotto un articolato progetto di ricerca e memoria partecipata, di cui la pubblicazione fa parte, che ha portato alla luce, condivizia di particolari, gli aspetti della svolta turistica che vede protagonisti gli appennini, da Prato fino a Bologna, da Montepiano a Migliana, da Schignano alla riserva dell'Acquerino. Il progetto Antiche Villeggiature ha come l'obiettivo quello di riscoprire la storia della vocazione turistica della Val di Bisenzio, cioè quando la nostra valle, le nostre montagne erano veramente la meta prediletta della società cosmopolita fiorentina, ma anche di tutto un mondo di turisti, viaggiatori ed escursionisti che amarono la nostra valle già nella seconda metà dell'Ottocento. La valle inizia ad accogliere questi turisti che provengono da tutto il mondo, iniziano a fiorire le prime locande, i primi alberghi, i primi affittacameri e anche vengono costruite delle ville molto signorile. Nello stesso tempo l'incontro tra la popolazione della Val di Bisenzio, anche questa vocazione di accoglienza veramente ancestrale, comporta un cambiamento anche della mentalità e una apertura, una proiezione verso veramente la Toscana, l'Italia e il mondo da parte di questa valle. Un lavoro davvero importante quello fatto dal CDSE, questo grazie anche davvero al contributo dei singoli cittadini, appassionati collezionisti di cartoline, di documenti d'epoca che prontamente ci hanno messo a disposizione per creare questa bella pubblicazione che racconta davvero uno spaccato importante della nostra Val di Bisenzio. Tra le zone della vallata vocazione turistica figura anche Schignano, affermatasi in passato come stazione climatica estiva. Noi vogliamo dal passato guardare al futuro, rilanciare quello che era l'appetibilità di Schignano ai giorni nostri per fare in modo che sempre più turisti, anche al di fuori da Prato, perché la nostra ambizione è di andare oltre Prato, possa scoprire i nostri luoghi, fare delle belle passeggiate e degustare i nostri prodotti tipici. Tutto verrà raccontato tra luglio e agosto attraverso un ricco calendario di iniziative pubbliche, presentazioni e spettacoli teatrali nei comuni di Vernio, Cantagallo e Vaiano. Due le mostre documentarie e fotografiche che verranno allestite a Migliana e all'archivio di Stato di Prato. E passiamo adesso allo sport, al basket, festa di sport e non solo di basket. Ieri sera al playground Yogi Giuntoni è andata in scena la prima super sfida tra All Star Firenze e Street Ball Prato. Giocate spettacolari e canestri strepitosi realizzati dai 24 talentuosi interpreti di questo inedito confronto sono stati indubbiamente un grande spot per la pallacanestro pratese. Gara in bilico fino a pochi secondi dal termine ma alla fine ha prevalso il team fiorentino in cui giocavano ben sei ex Dragons, due dei quali vestiranno la casacca della Sibe Prato nella prossima stagione, Fontani e Tahiti. 81 a 73 il risultato finale. Miglior giocatore della gara Maggini e passerà alla finale per Capitan Corsi a cui è stato tributato un omaggio al termine di una carriera incredibile. TV Prato manderà in onda la telecronaca della sfida domani a mezzanotte su questo canale e sabato alle 21 su TV Prato Sport, canale 212 del Digitale Terrestre. E facciamo adesso una breve pausa ma rimanete con noi, torniamo tra poco con l'agenda e il meteo. Ben trovati dal momento dell'agenda, scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in programma a Prato e dintorni. Domani alle 18 presso la sala conferenze della Fondazione Opera Santa Rita in Via Diaz inaugurazione della mostra Giampiero Poggiali Berlinghieri 50 anni e presentazione del video di Stefano Cecchi 50 anni in un battito d'ali realizzato per l'occasione. Alle 21 al Circo Le Risorti alla Querce, ballo liscio con Marco Folk dalle 19.30, pizzeria aperta. Alle 21.30 alla Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzerini, concerto della Camerata Strumentale Città di Prato con la partecipazione del violoncellista Antonio Lisi e di Elisa Cozzini al flauto di Rige, il maestro Jonathan Webb, ingresso libero. Alle 21.45 al Castello dell'Imperatore, proiezione del film Tutti i soldi del mondo. Domani sera ai Giardini di Sant'Orso, la musica da Pled a cura di Andrea Lenzi e Claudio Capitone. Alle 22 al Chiosco della Strega in Via di Cantagallo a Filine, musica live con la British Bulldog Band, apertura del chiosco dalle 19.00. Da domani a domenica l'ex Cava di Bacchereto, Social Cava 2018 sulla stessa barca, mini festival conform, mostre, giochi popolari, musica e punto ristoro. Infine, prosegue fino a domenica 29 luglio, al Parco dell'Albereta Mercatale di Vernio, la Festa della Misericordia di Vernio, tutte le sere stand gastronomici e musica dal vivo. E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buonasera, ben trovati con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Nel corso dei prossimi giorni l'alta pressione tenderà via via a consolidarsi, soprattutto nel fine settimana, garanzia di tempo stabile e soleggiato, anche nelle ore più calde della giornata, salvo un'instabilità più accentuata sull'arco alpino, mentre andrà meglio sulla nostra regione. Infatti, la previsione per domani, all'insegna di un cielo sereno poco nuvoloso in mattinata, solo degli addensamenti di tipo basso, nelle prime ore del mattino sul Valdarno medio ed inferiore, nel pomeriggio assisteremo al consueto aumento di nubi cumuliformi, soprattutto sulle zone interne associate a rovesci e locali temporali. Fenomeni più probabili lungo la dorsale appenninica, tra le province di Siena e l'interno del Grossetano, sulle colline metallifere attorno al Montamiata. Temperature pressoché stazionare, anche 33-34 gradi di massima. Nel fine settimana andrà un po' meglio, quindi giornate tipicamente estive e soleggiate, solo qualche addensamento in più nel pomeriggio sulle zone interne. Domenica non si esclude qualche breve rovescio in appennino nel corso delle ore pomeridiane, comunque fenomeni di scarso rilievo. Temperature senza variazione di rilievo o in ulteriore rilievo aumento domenica. È tutto, grazie per l'attenzione. Ed è tutto anche per noi, il telegiornale termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per domani alle 13.45 con il Tg del Giorno. Vi ricordo poi che oggi alle 21.20 va in onda la prima puntata di Creazione Urbana e Diario di una città. Grazie per averci seguito, arrivederci.